L'ultima volta la notte di ferragosto, ingressi contingentati e rigide misure di sicurezza. Dall'ora la più grande discoteca del sud Italia, nata dalle ceneri della storica di Vinefolie di Biceglie, è chiusa, come tutti i locali notturni in Italia, fermati dal governo per far fronte all'emergenza sanitaria. Il gestore ha dovuto mandare a casa 150 persone e spiega esattamente come hanno fatto tanti altri colleghi che vivono di questo lavoro, indicati tra i maggiori responsabili del diffondersi del contagio. Fra mezzi pubblici, scuole, centri commerciali, centri cittadini super affollati, stanno dimostrando che effettivamente non eravamo noi dove passava il contagio, ma sono ben altri i punti dove si passava il contagio. In più noi avevamo chiesto al governo di attuare ulteriori misure restrittive ai nostri confronti che potevano permettere di poter continuare a lavorare in sicurezza, facendo i tamponi rapidi a tutti gli avventori e facendo obbligatoriamente installare l'app Immuni a tutti i nostri clienti. Non siamo stati assolutamente ascoltati, anzi hanno deciso di chiuderci e sono due mesi che le nostre aziende e i nostri dipendenti non sanno assolutamente che fine fare. Le attività sono ferme, ma la voglia di mettersi a disposizione degli altri in questo momento è tanta. Dal DF la proposta a Comune e Regione di utilizzare l'enorme parcheggio ora vuoto. Visto che comunque i contagi stanno aumentando in modo vertiginoso, possa diventare un covid park per i tamponi rapidi.